E salve a tutti ragazzi, bentrovati in questo nuovo video del vostro AlexFlyce in cui vi mostrerò come ottenere il veri specchio ovvero lo strumento che permette di far cambiare forma all'Andoros, Tundrus e Tornados nella rispettiva forma totem e viceversa Tutto quello che dovrete fare per prendere questo strumento è avere uno di questi tre Pokémon in squadra, guardare a Ciclamipoli ed andare a parlare con la signora che vende specchi per modo di dire, avendo il Pokémon in squadra come vedete al termine di questo breve dialogo poi otterremo lo strumento che ci interessa Per questo breve video è dunque tutto, se non avete catturato ancora i tre geni vi consiglio di cliccare sull'immagine che state vedendo e detto questo ci vediamo in un prossimo video, ciao a tutti!